Se potessi scambiare la mia borsa per un giorno io la scambierai con mia nonna Ragazzi, perché mia nonna, ecco, se la sua borsa fosse un personaggio sarebbe tipo Mary Poppins Quindi c'è dentro qualsiasi cosa La nonna ha tutto Allora, l'oggetto più strano che potete trovare nella mia borsa Oggi, perché cambia, eh Vi dico, oggi sono delle bolle di sapone Cioè, guarda come improvvisamente la vita va bene Cioè, capito, va tutto bene È un attimo e la vita va bene Guarda, tu vai da uno, vedi, sta un po' male Tieni, amore Un po' di meraviglia per te You're fantastic today